Questa sarebbe Eden. Ve le immaginavo diverse. Sì, tipo un megaregno pieno di schiavi. No, a mio padre piace restare da solo. Signorino, da quanto tempo? Prego! Voi aspettatemi qui. Okidoki. Oh, sei qui, Gesù? Oh, Maddalena. Cosa fai qui tutto solo? Il mio tempo qui sta per finire, amore mio. Tra poco dovrò morire. È un mostro! Andiamocene! Io non sono un mostro. Figliolo. Eh? E tu cosa diavolo sei? Io sono Dio, tuo padre. Ora capisco molte cose. Allora non sono un mostro. Direi di no. Anzi, tu sei il prescelto. Che cosa ci faccio qui, padre? Morire? Di cosa stai parlando? Perché tutto funzioni, io devo sacrificarmi per salvarvi. E... Ma chi voglio prendere in giro? Ma Dalena, amore mio, non posso mentirti fino alla fine. Io non sono qui per salvarvi. Eh? Sono stato mandato da Dio, sì. Ma per conquistarvi, non per salvarvi. A mio padre non interessa niente di voi. Non capisco. Ho semplicemente scelto una via meno sanguinaria. Sono diventato vostro amico, il vostro salvatore. Ho ottenuto la vostra fiducia. E se vi ho conosciuti bene, la ricompensa della vita eterna, il mio sacrificio, tutto ciò mi renderà venerato in eterno. E quando sarà il momento? Quando sarà il momento? Cosa succederà a tutti? Non lo so. Salvala! Tu puoi farlo! Sei il figlio di Dio! Come? Giurami che la salverai! Giurami che salverai questo mondo! Salvarla? Io? Non aspettarti niente da me, Maddalena. Non sono all'altezza delle tue aspettative. Non piangere per me, amore mio. E poi? Cosa dovrei salvare? Non vedo altro che schifo. Guarda bene, Maddalena. La mischinità. La cattiveria. Sono tutti senza speranze. Nel loro cuore divampa il fuoco dell'odio. Non si capiranno mai. Come puoi avere speranza, Maddalena? Io credo che un giorno riusciremo a capirci meglio tra noi. Anzi, ne sono certa. Maddalena. Oh, che male! Maledetti sadici! Sapevi che non saresti morto? Padre? Più o meno. È stato un azzardo, ma mi fidavo abbastanza dei miei poteri curativi. Vedo che il tuo potere è maturato. Direi che è ora di andare. Andare dove? Quello è il tuo fratello. Lucifero. È questo qui. Sembra di Boluccio. Lo aiuteremo a diventare degno del potere che porta. Maddalena. Tra i due forse eri tu ad avere ragione. I tempi sono cambiati. Mi spiace averti lasciata, averti mentito, essermene andato. Mi domando spesso come sarebbe stato rimanere lì con te. Ma così ho potuto osservare questi inetti. Sono capaci di grandi cose, ma fanno un passo avanti e dieci indietro. Hanno ancora molto da imparare. Eppure, anch'io ho iniziato a sentirmi parte di tutto questo. Sarà la mia parte terrestre. Perché mi sento così legato a questo pianeta? Forse... Forse voglio salvarla. Sì. Te lo prometto. Gesù, sei arrivato. Come sta andando? Ti devo parlare. E così voi siete amici del signorino. E voi... Noi apriamo la porta? E... Basta? Sì. Io mi aspettavo chissà che regno, e invece è una casetta con due domestici. A Dio non piace avere contatti praticamente con nessuno. Però noi siamo divertenti. Conosciamo molte battute. Vero? Sì. Immagino. E quello? Cosa diavolo? Oh oh. Perché sei così serio? Io... Mi hai sempre detto che un giorno avrei capito il mio ruolo e quello della Terra. Ho bisogno di sapere perché la Terra è così importante per te. Cosa c'entra con l'origine che vai tanto cercando? Figliolo. E' normale che tu non abbia un quadro chiaro. Non hai visto ciò che ho visto io. Non sai ciò che so io. Allora spiegati. Non è ancora il momento per te di sapere. Ti chiedo di fidarti di me per un altro po'. Voglio che tu mi garantisca che la Terra sarà al sicuro. Anche da te. Quel posto è così importante per te. Sì. E va bene. Io non la toccherò se è questo che ti preoccupa. Ma dimmi. Che ti è successo? Ti vedo diverso. Oh beh. Io... Boss, scusi l'interruzione, ma abbiamo un bel problema. Guardi fuori. Che succede? Abbiamo ospiti. Ma è impossibile. Come ci hanno trovato? Beh. Andiamo a chiederglielo. Esci fuori. Dio! Guarda, guarda che brutte facce. Che ci fate da queste parti? Siamo venuti a chiudere i conti. Non chiedevo di meglio.